Eccoci qui, benvenuti in questa nuova lezione. Abbiamo parlato fino adesso di alimentazione. Penso che ormai avrai capito qual è il mio punto di vista sull'alimentazione. Non ti ho fatto delle lezioni precise per come già ne vengono fatte sul che cos'è un carboidrato, che cosa sono i grassi, che cosa sono le proteine, quali sono i ruoli nel nostro corpo, perché la teoria cerco di eliminarla. Adesso voglio fornirti. Il mio obiettivo è quello di fornirti il più possibile delle strategie valide per mangiare sano. Punto. Ok? Quindi tu devi avere, dopo questa settimana, le competenze che servono per mangiare nel modo più sano possibile. E oggi parliamo di acqua, cioè l'alimento più importante che dobbiamo assolutamente introdurre nel giusto quantitativo ogni singolo giorno. L'acqua è fondamentale. Sei fatto per il 70% di acqua, le cellule coordinano, diciamo, tutto tramite l'acqua. Quindi i messaggi tra cellula e cellula, ma anche all'interno della cellula, avvengono grazie a questo liquido, a quest'acqua. E quindi avere un giusto apporto di acqua è di fondamentale importanza. Il nostro cervello funziona bene se idratato e se cala la percentuale di acqua all'interno proprio delle cellule cerebrali, cala tantissimo, le capacità calano tantissimo, le capacità cognitive e si rischia tantissimo. Ora, l'acqua è di fondamentale importanza e, diciamo, prima di iniziare, aspetta che condivido lo schermo. Eccoci qua. Intanto ti ho riportato solo una slide, ho racchiuso in un'unica slide le regole che devi tenere a mente, ok? E ti dicevo, l'acqua è veramente un alimento, ok? Deve essere preso in considerazione come se fosse veramente un alimento, ok? E come del resto lo è anche l'ossigeno, la respirazione. Ed è per questo che poi più avanti ti riporto delle lezioni sulla respirazione. Perché? Perché l'acqua nutre il nostro corpo, come l'ossigeno nutre il nostro corpo, perché viene utilizzato questo ossigeno dalle cellule per produrre energia, per mandare avanti tantissimi processi biochimici. Quindi non è altro che un nutrimento, ok? E ognuno di questi aspetti, quindi il cibo, l'acqua, il respiro, l'ossigeno, devono essere, devono avere un'importanza chiave all'interno della tua vita, ok? Però ritornando a noi, parlando di acqua, qual è il primo consiglio, la prima regola che devi avere? Bevi almeno un litro d'acqua entro l'ora di pranzo. In genere le persone bevono poco la mattina e bevono tanto nel pasto. Quindi a pranzo o a cena perché si dimenticano di bere. È un problema perché nel momento in cui io mangio tanto nei pasti, diluisco i succhi gastrici, digerisco con molta più lentezza e difficoltà e di conseguenza il mio corpo, i livelli di stanchezza e di energia di conseguenza non saranno ideali, ok? Quindi consiglio, portali sempre, se ci riferiamo al secondo consiglio, portali sempre una borraccia d'acqua appresso, sempre. In modo tale che se ce l'hai sempre davanti, ti ricordi, ti ricorderai di bere, ok? Come faccio io? Io ho l'acqua sempre vicina, quando la guardo mi ricorda che devo bere e bevo. Ok? Bisogna essere precisi sotto questo punto di vista. Quindi bevi almeno un litro di acqua entro l'ora di pranzo e ti aggiungo entro l'ora di cena a distanza del pranzo. Quindi aspetti un'oretta dopo il pranzo e poi cominci a bere goccio per goccio fino ad arrivare a un litro, un litro e mezzo entro l'ora di cena. E magari a cena non bevi o bevi solo un bicchiere d'acqua, ok? Portati quindi sempre una borraccia vicino, tieni la bella stretta. E regola numero tre, utilizza tisane ed erbe officinali per aumentare il quantitativo di acqua giornaliero. Per quanto riguarda quanto bere, possiamo bere dai due litri fino ai tre litri e anche tre litri e mezzo di acqua al giorno. Dipende dal nostro peso corporeo, da quanta massa muscolare abbiamo, da quanto sport facciamo, da quanto ci muoviamo. Ora, e anche e soprattutto da quanto fa caldo, l'estate si berrà di più, l'inverno un pochino di meno. Però invece di darti un parametro ben fisso, quello che voglio dirti è se senti tanto il tuo corpo, bevi anche se non senti la necessità di bere, perché quando senti la necessità di bere vuol dire che sei già disidratato. In una condizione di disidratazione non ci dobbiamo mai arrivare, perché il nostro corpo funziona male. Quindi noi dobbiamo funzionare sempre bene, dobbiamo bere sempre anche se non sentiamo lo stimolo di bere, non dobbiamo mai sentire la voglia di bere il senso di sete, perché vuole dire essere disidratati. Se non, quindi, e cerca di sentire il tuo corpo per capire quanto bere. Logico che il tuo corpo non ti porterà mai a bere quattro litri di acqua al giorno se non fai tanto sport, se non bruci, se non elimini quell'acqua, ok? Quindi, per darti una linea guida cerca di bere almeno due litri e mezzo di acqua al giorno, ok? Portati una tisana sempre con te, una borraccia sempre con te e bevi tisane, magari la sera prima di andare a dormire, magari la mattina invece di bere solo un caffè ti prendi anche una tisana e questo ti aiuterà a dare, tra virgolette, sapore e a bere un pochino di più. Per quanto riguarda le erbe officinali, utilizzandole puoi anche aumentare quello che è poi la qualità delle tue giornate, perché alcune erbe officinali fanno veramente bene. Alcune erbe officinali vanno a migliorare l'infiammazione generale del tuo corpo, vanno a rilassare il corpo, vanno a aumentare il sistema immunitario, vanno a stimolare il nostro corpo in tante, tante, tante forme differenti in base poi alle erbe che si utilizzano. Quindi utilizzali, c'è un enorme mercato in questo ambito, cerca di utilizzare delle tisane, di comprare delle tisane che non contengono dei prodotti e che edulcorano il sapore, quindi che vanno a migliorare l'appetibilità, la qualità a livello proprio di palato di queste tisane, cerca di trovare dei prodotti più naturali possibili. Questo è il consiglio che mi sento di darti. Bevi due litri e mezzo d'acqua al giorno, portali sempre delle tisane con te, cerca di bere sempre, in continuazione, senza mai avvertire il senso di sete. Questo per darti gli strumenti, per darti i consigli base che ti aiuteranno a migliorare quella che è la qualità della tua vita e delle tue giornate. Con questa lezione è tutto, noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, mi raccomando, bevi! Grazie a tutti!